Difendere la spesa quotidiana di tutti, nessuno escluso. Difendere la qualità dei prodotti senza compromesse e impegnarsi a testarli. Prendersi cura degli altri, soprattutto dei più deboli. Sostenere i diritti civili sempre. Proteggere l'ambiente. Costruire la pace ogni giorno. Guardare al futuro. Se lo fai insieme ad altri 6 milioni di soci, è una cosa grande per tutti. Perché la COP non è di uno, è di tutti. Sottoscrivi, diventa socio anche tu. La COP sei tu. Ciao. Grazie a tutti.